Bene, oggi facciamo presto perché sui giornali dell'8 agosto c'è veramente poco nulla se non le cose di ieri un po' rimiscolate oggi sull'eroico poliziotto che ha fatto il suo dovere e avrebbe salvato in pochi minuti tantissime persone, anzi ha salvato avrebbe dovuto salvare tante persone dal rogo sulla Bologna, sulla catagenzia di Bologna oggi è fotografato in prima pagina sul tempo e di eroico oggi in Italia c'è soltanto uno ed è Baracchini, il presidente della Vigilanza Rai che si sta mettendo di traverso con tutti i modi possibili, legali, immaginabili contro la presidenza del sovranista putiniano, che cosa volete dargli? Fake news, quello che volete di Marcello Foa quella è la grande resistenza, il poliziotto della correttezza, la cosa che mi diverte su tutta la vicenza della Vigilanza Rai che mi sottolineerei ai grandi geni di Forza Italia è che per far fuori Foa stanno candidando alla presidenza Rai l'autocandidato, come racconta oggi, buongiorno Paolo, l'autocandidato come dice bene oggi il fatto quotidiano di Gianni Minoli cioè che cosa succede? Il presidente della Rai non sarà un ex giornalista del giornale ma un ex sponsor di Bettino Craxi in fondo forse ci può anche stare rispetto a vent'anni fa, l'uomo che disse sono sempre un uomo di centrosinistra a Hug, Giorgio, insomma è una bellissima scelta quella di far fuori Foa perché non concordato e concordare qualcuno che ve la mette nel concord, ecco questa è una bella idea, complimenti, mi sembra importante dare questa idea di Forza Italia partito di rinnovamento che con il contratto del cambiamento di italiani, quindi il rinnovamento di Forza Italia del cambiamento di italiani, chi prendono come presidente la Rai? Beh, fantastico, prendono Minoli, yes, numeri uno secondo me la gente qua c'è la fila davanti al portone di Forza Italia per fare le teste di Forza Italia per questa loro grande scelta, come possiamo dire, di adesione a quello che pensa la gente normale, no? Perfetto, grande battaglia contro Foa, continuate così perché il partito in questa maniera diventerà forse il primo partito alle europee nel frattempo ovviamente le cose se non stanno bene all'opposizione non stanno bene neanche al governo perché l'idea che ieri sia una giornata storica perché è passata quella cagata del decreto dignità è una cosa che ce l'hanno in testa soltanto Di Maio e pochi come lui io penso che molti deleghisti si vergognino di quello che hanno votato anche se alcuni sono, come possiamo dire, sono affascinati dalla banalità del male quindi gli piace quello che hanno votato ieri, l'hanno votato compatto, il decreto dignità passa al Senato partiamo subito dall'unica cosa decente che c'è nel decreto dignità perché almeno ci facciamo la bocca su una cagata pazzesca e ritirova l'Italia oggi, cioè un minimo di flessibilità in più sui voucher c'è si passa da 3 a 10 per le aziende, i giorni per farli le aziende possono essere stese a quelle agricole e a quelle del turismo nel frattempo nessuno ha messo in relazione due cose banali cioè nella passata legislatura dove non c'erano il giallo verdi e c'era Renzi ci hanno tolto i voucher, complimenti su un referendum che voleva fare la Cigella però l'ha fatto il decreto Poletti per evitare il referendum, hanno tolto i voucher nel frattempo hanno fatto il decreto contro il nero, no? ve lo ricordate? Contro il caporallato Martina bene, tolgono il voucher nell'agricoltura e tolgono il nero e ieri che cosa ci accorgiamo? che c'è un camion con 11 persone di colore che muoiono per raccogliere i pomodori è bastato il decreto? è bastato il decreto Martina? è bastato togliere i voucher per togliere il nero? o quello amplifica il nero? cosa che banalmente si riesce a capire anche sul decreto dignità che farà esattamente l'opposto di quello che è il titolo in ditta cioè non sarà dignitoso per quelli che lavorano perché come ha detto ieri Bonometti, come dice oggi in un'intervista a Zoppa tra l'altro l'altra cosa che mi stupisce è che per la prima volta a parlare sono imprenditori che hanno un ruolo importante in Confindustria ma non in quella romana parla Zoppa, parla Bonometti, Lombardi, Veneti soprattutto gli altri zitti e muti perché forse spettano un reddito di cittadinanza e soprattutto zitto e muto la Confindustria nazionale anche perché insomma, voglio dire, ne ha detto talmente di tutti i colori che forse oggi la sua credibilità è pari a zero oggi l'intervista di Zoppas la leggete ed è molto interessante sul Corriere della Sera giornata storica, dice Giannini prendendo in giro su Repubblica l'idea che sia sempre storica la giornata finisce l'aereo di Renzi, giornata storica fine dei vitalizi, come avete visto invece aumentano i costi per la Camera giornata storica, nasce il decreto dignità fanno il pugnetto così, che te viene nella rabbia di Maio il pugnetto lo faceva forse allo stadio, non in Parlamento fanno il pugnetto contenti del pugnetto sul decreto dignità perfetto, tutti d'accordo, però c'è un piccolo problema che gli imprenditori quel decreto dignità lo utilizzano per non per assumere e nel frattempo ovviamente come dice benissimo oggi Michele Brambilla questo è il Ministro del Lavoro del Nero Nero per il decreto dignità, Nero per il fatto che con questa norma che verrà, è stata presentata ieri toglierà le pensioni, alle pensioni più alte per darle alle più basse, sostanzialmente cosa farà? toglierà a pensionati che hanno più o meno contribuito per avere quelle pensioni anche se gli togli da parte, diciamo, per la loro non contribuzione a chi le dà questi soldi da quelle pensioni e dà le pensioni più basse che non hanno contribuito per quelle pensioni chiaro, che sia molto chiaro cioè non hai contribuito, puoi avere la casa puoi aver pagato in nero, puoi avere la seconda casa puoi avere tutto quello che vuoi però ti adeguano le pensioni più basse non avendo pagato i contributi quindi tutti e due non hanno pagato i contributi né quelle alte né quelle basse però quelle basse si possono aiutare per evidenti motivi, diciamo, chiaramente di redistribuzione per i quali avete votato voi leghisti ben contenti e convinti questo è quello che dice Brambilla oggi intervista a Tria, il ministro dell'economia io vi inviterei se c'è qualcuno, qualche aspirante giornalista che segue la zuppa oggi è sul Sole 24 ore trovate un titolo trovate un titolo quando fai un'intervista il titolo può essere Tria ama le mele Tria vuole andare in vacanza Tria vuole la flat tax voi vi leggete l'intervista purtroppo vi sono fatto due palle così mi sono letto 100 righe di intervista un titolo uno fate la flat tax beh sì, la faremo la flat tax vabbè, l'abbiamo detto tutti quanti come la fate? vediamo fate il reddito di cittadinanza sì, beh, includendo gli altri redditi lo faremo come lo farete? boh, non lo so sulle pensioni beh sì, faremo le pensioni però cercheremo di non compromettere la curva di medio-lungo termine della spesa ma vado avanti la TAV cosa succede? che è l'altra grande contestazione beh, in gioco ci sono anche questioni simboliche grazie alla minchia lo sapevamo che c'erano questioni simboliche il Movimento 5 Stelle ha fatto la sua fortuna elettorale su questa roba della TAV non c'era bisogno di intervista al Ministro dell'Economia ma vado avanti bisogna fare gli investimenti pubblici per far ripartire questo paese grazie, ce l'hai spiegato nel frattempo però non ci è spiegato se gli investimenti pubblici che devono essere sulla TAV o che ne so sul fungo fatto a Pomigliano d'Arco ci spieghi cosa sono gli investimenti pubblici se non riusciamo manco a fare un progetto che è stato votato 10 anni fa con un trattato internazionale come la TAV a Lione e andiamo avanti forse toccheremo le tax expenditures e beh, questo lo dicono tutti quanti i governi siccome là ci sono 220 miliardi di riduzioni fiscali però se non ci dici che cosa che ne sappiamo cosa sono le nomine che farete oggi pomeriggio all'Agenzia delle Entrate beh, non ne parlo prima del Consiglio dei Ministri ci sta ma magari ce lo racconti che fine ha fatto la fase fiscale qualcuno di voi mi chiede beh, tutti l'annunciano ma la pace fiscale nei suoi dettagli sarà importante posto che vi ricordo che pace fiscali non potranno mai farsi per i cosiddetti vecchi condori tombali perché sull'IVA non si scherza più perché è materia europea quindi non si potrà mai fare una pace fiscale che riguarda l'IVA vedremo che pace fiscale ci proporranno quando saremo nel dettaglio lo capiremo assalto alle pensioni d'oro il titolo oggi della stampa lo aveva fatto due giorni fa il giornale la sostanza è molto semplice è un disegno di legge della Lega e del Movimento 5 Stelle per tagliare le pensioni a chi ha più di 4.000 euro di pensione all'anno al mese scusatemi ovviamente nella parte che non è stata pagata con i contributi cosa buona e giusta appunto vi dice Brambilla se non fosse che poi questi soldi vengono dati a persone che comunque i contributi non li hanno pagati neanche loro andiamo avanti sulle questioni di economia un'altra questione personale molto divertente è quella di Mauro Felicori che è il direttore dei musei della Reggia di Caserta bravissimo l'uomo che ha cercato di dare una svolta a Reggia di Caserta a ottobre non ci sarà più per il semplice motivo che andrà in pensione oggi se ne preoccupa e si dispiace di tutto ciò la Repubblica due cose di economia la prima molto interessante c'erano alcuni giornali in prima pagina uno di questi è il messaggero ma non solo lui l'Unicredit decide di rompere con Facebook ieri porta risultati che sono brillanti 2 miliardi di utili insomma molto contento il suo amministratore delegato il francese Mustier che dice però cari amici miei noi su Facebook non facciamo pubblicità il motivo è molto semplice anzi l'abbiamo ridotta l'abbiamo cancellata perché nel passato la facciamo perché Facebook non è etica oggi c'è una pagina intera sul fatto quotidiano che vuole difendere e in questo fa bene l'inutile come possiamo dire campagna fatta dal Corriere della Repubblica contro i twittaroli e i falsi e i fake su Twitter oggi spiega in una pagina intera il fatto quotidiano che Twitter non conta più nulla ultima notizia di economia Salini in pregiro colpo negli USA cede gli asfalti per 500 milioni ecco io era tanti anni che non vedevo un giornale italiano che titolasse colpo negli USA o in America per aver ceduto qualche cosa in genere la retorica italiana che se un'azienda italiana cede qualcosa è un disastro soprattutto se lo cede all'estero si viene comprato da uno straniero in questo caso al CEO Pietro Salini che parla all'interno di questo pezzo firmato da Nila Polizzi si considera un colpo il fatto che lui abbia venduto qualche cosa che aveva comprato a prezzi molto ridotti nel passato cosa che viene spesso in genere si vende cose su cui si fanno grandi guadagni avrebbe fatto un miliardo e due di creazione del valore direi un po' di meno mettiamola così detto questo mi divertiva il fatto che una grande azienda italiana molto solida molto diciamo da seguire come quella di Salini per il Corriere oggi diventa un colpo il fatto che vendano gli Stati Uniti piccola notazione voglio dire senza nessuna polemica ma sul titolo che io vorrei fare vorrei trovare ancora per Tria mi sto scervellando il Ministro dell'Economia oggi ha parlato al Sole 24 Ore e là sei nei casini ti dicono abbiamo il Ministro dell'Economia bello fichissimo due pagine intervista ti dice di tutto come lo titoli insomma se i giornalisti nostri fossero avessimo diciamo un po' di serietà cosa che non abbiamo ma a partire da me a partire da me che faccio giornalista televisivo in quei casi quando qualcuno non ti dice nulla gli si dice ciao caro se non mi dici nulla puoi anche essere domine Dio ma tu qui neanche tre righe prendi non due pagine in realtà questa è una diciamo è un piccolo sfogo che faccio ma anche a me tante volte io intervisto persone che non mi dicono nulla eppure vanno in onda sbagliato dovremmo rifiutarci di mandarle in onda bene per una banca parlare di etica è alquanto assurdo dice Guida ma insomma non lo so se è alquanto assurdo però suona sempre un po' strano quando le banche parlano di etica però ormai etica è la parola di cui tutti quanti noi ci siamo riempiti il vocabolario richiama Padoan nostalgicone beh no effettivamente le interviste a Padoan erano ancora più asettiche di quelle di Tria dice Amintore Schillaci mi prende in giro su Tria e devo dire che su questo gli do ragione perché obiettivamente le interviste di Padoan erano da suicidio collettivo non solo per quello che diceva ma per l'incapacità di capire che cosa intendessero un saluto a tutti quanti e ci vediamo domani se vi piace questa zuppa condividetela ciao ciao